31 anni fa la strage di Capaci, l'attentato nel quale persero la vita il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della scorta a Palermo, nell'aula bunker dello Ciardone, la cerimonia, il loro esempio continua a vivere, il nostro dovere è mantenerlo sempre vivo, sottolinea il capo della polizia Vittorio Pisani, ricordando anche la strage di Via D'Amelio. Dalle 11, appuntamento con lo speciale di Rai News 24, con Lorenzo Lobasso ripercorriamo quella giornata. Era il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo partono alle 16.45 da Roma, alla volta di Palermo, dove atterreranno alle 17.28. Poco distante dalla pista, dove lo attendono le tre Fiat Croma corazzate, in un canale di scolo di quel nastro d'asfalto di 7 km che separa l'aeroporto dalla città, ci sono 400 kg di esplosivo piazzati da Cosa Nostra, nei pressi dello svincolo di Capaci, nel comune di Isola delle Femmine. Il pomeriggio è tranquillo e la carovana di auto si muove senza sireni, mentre i complici informano i sicari di ogni movimento. Sono gli ultimi minuti di vita delle vittime della strage di Capaci. Falcone è alla guida della Croma Bianca, accanto a lui la moglie, l'autista Giuseppe Costanza invece siede dietro. Nella macchina marrone ci sono Vito Schifani che guida, accanto a lui Antonio Montinaro, mentre Rocco di Cillo è sul sedile posteriore. Nella vettura azzurra ci sono Paolo Capuzzo, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. La Croma marrone è la prima, segue la bianca guidata da Falcone, in coda quella azzurra. Pochi minuti dopo il convoglio è nel luogo dell'attentato e scatta la bomba. Ad armarla la mano di Giovanni Brusca, il killer mandato da Totò Rina. A pochi istanti dalla detonazione Falcone rallenta e Brusca spiazzato attiva la bomba, ma l'esplosione. C'entra solo la prima auto, quella marrone. La Croma Bianca invece si schianta contro il muro dei detriti. Falcone e la moglie, senza cintura di sicurezza, sono scaraventati contro il parabrezza. Gli agenti della terza auto, la Croma Azzurra invece si salvano. Altri veicoli sono coinvolti, una Fiat Uno con una coppia di austriaci e una Opel Corsa Rossa. Poco più di venti minuti dopo l'esplosione, Falcone, gli altri agenti e i civili coinvolti sono trasportati all'ospedale. Alle 19.05, un'ora e sette minuti dopo l'attentato, al civico di Palermo, dopo alcuni disperati tentativi di rianimazione, Giovanni Falcone muore. La moglie, Francesca Morviglio, si spegnerà invece alle 23. 57 giorni dopo, Cosa Nostra ucciderà Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La moglie, Francesca Morviglio, si spegnerà invece alle 24.